Gianni ti voglio fare una domanda? Sì Ma stavolta, quest'anno, abbiamo azzeccato la strada? Rocca di cambio 22, Rocca di mezzo 26 Quindi? E poi vediamo Poi voglio avere un'altra previsione, quest'anno troviamo anche la nebbia? No, la nebbia Eh già? No Vabbè, vabbè, scusa Vabbè, scusa, non ti incazzare Sto sempre voloso Vabbè, tra un po' vediamo, dai Marco, come ti senti? Sì In una zona che non hai mai frequentato Non ho mai frequentato, non ho mai visto questi posti Non ho contento Sei contento? Perché abbiamo una guida come Gianni Insomma, sicuramente ci porterà a vedere il meglio di questa zona Tu pensi che Gianni possa aiutarci a vedere il meglio? Gianni, tu che dici? Come? Non vissi niente quest'anno? No, no, che dico Vabbè, allora quest'anno... Ma sento tutto Marco No, allora dimmelo, le riprese non le facciate No, no, che effetto? Oh, c'è anche una... Ma se non le devo fare le riprese? Una new entry c'è Cioè, due new entry L'altro entry è Danilo Che proviene dalla Val Gardena Che dici? Sei contento? Sono andato a fare la gamba E sì La voglio provare adesso, sta gamba No, vuoi vedere? Hai portato una bicicletta che non si presta molto? La bicicletta non l'ho portata La gamba, sì Quindi vai a piedi? Prevedo sulle salite No, 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 va bene Va bene, che se mai vediamo dopo, no? No, 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 va bene Vabbè, con l'aria condizionata non c'è Capite? L'aria condizionata non esiste Perché? Non serve Perché? Non serve Perché l'aria è stata C'è l'aria condizionata C'è la pesca Innanzitutto possiamo dire il panorama Sì, quindi fermiamoci Fermiamoci due secondi Aspetta Fermiamoci Quanti ce l'avevano calze? Comunque tutta Quella è Pagana? Non sai che quello potrebbe essere? Anche l'Aquila? No, l'Aquila sta più giù Sta giù, sta giù Quella forse è Pagana Forse Forse Ma lui è di qua È più grande E poi decidiamo la strada Potrebbe Allora decidiamo Se vogliamo andare a Rocca di Cambio a pranzo Ci conviene salire a destra Che questa arriva direttamente a Rocca di Cambio A Rocca di Cambio dove sta Idle? Quale cosa c'è? Il caminetto Invece quell'altro? Oppure se vogliamo andare a Campacavallo Che il nome è? Ma dove sta quello? C'è la Rocca di Mezzo Quindi facciamo la stessa scena l'anno scorso E fermiamo il più in meno A Rocca di Mezzo O a Rocca di Mezzo Oppure a dove stavamo L'anno scorso A te cosa ti ha convinto di più? Già, dillo Eh? Cosa ti ha convinto di più tra le due recensioni? A me mi ha convinto di più il caminetto Però Campacavallo è pure molto buono Capito? Se ti ha convinto di più il caminetto Ci sarà un motivo Allora, sì, la recensione è un milione Però tieni conto che a Rocca di Cambio ci stanno sei ristoranti No? Quindi uno su sei A Rocca di Mezzo ne sono di più Perché Rocca di Mezzo è il doppio come estensione Quindi? E quindi andiamo a Rocca di Mezzo Cambiamo tutto? Va bene Decisione Sì perché è un cammino che lì Il proviscono deve andare a fare la mia No, io no Io non sapevo dove vuoi andare a fare la mia No, io no Io non sapevo dove vuoi andare a fare la mia Non è Palestina Puoi fare la mia Quindi dove da Ma dovete girare comunque A Rocci Non si viste Direzione Rover Terra Nera Terra Nera Dove lasciamo la macchina dello scorso? No, noi non torniamo dove siamo studiati dello scorso Sì, la Rocca di Mezzo La Rocca di Cambio Qua su ci vede tutto il panorama Ma tutto il panorama di che, Dani? Scusa Non lo so Se l'Aquila Paganica Paganica ha giocato Ma quello è l'Aquila, Dani Eh, ti abbedo